Allora, naturalmente dal solito respiro profondo, dal solito saluto ai due miei dirimpetai, oggi parliamo di moda, stavo a dire parla di moda, sì parlo di moda perché è diventata la moda del slasera, dicono a Trento, ma il professor Parisi, esperto in dialetto, dice che chi? Ecco la E, perché la A le ha a Trento e la E le chi? Sla-ze-ra. Io che sono un po' riundo da varie parti senza una fissa dimora, sono stato molto tempo a Trento e quindi slasera, come vuole lui. Allora, la moda del slasera è qua, quando incontro una ragazza che ha i jeans tutti sbregati, che è il ginocchio che esce e che poi magari ha anche le scarpe da ginnastica senza lacci e delle camicette anche che va in fora, tutti i fili perché non hanno un contorno finale, non so, il bordo non c'è, ma è tutto slaserato e anche la maglia magari con qualche buchetto è slaserata anche questa. Allora, la moda del slasera si è conclusa giorni fa in via Galas. Andavo in via Galas e davanti a me aveva un ragazzo, non molto alto, abbastanza cicciottello, con quei capelli a visiera de traverso. Poi E aveva una giacca a vento, tutta malmessa, mangiava patatine con naturalmente la musica, gli auricolari nelle orecchie e le barraghe di quelle che le sopra il ginocchio, che dà molto l'impressione che uno abbia avuto dei problemi intestinali o che gli abbia dobbale talmente pieni per cui ha dovuto abbassare i pantaloni perché i suoi testicoli si sono abbassati ancora di più. E oltre a queste braghe aveva una borsa di dietro che gli si appoggiava sul reverendo di dietro, detto anche il culo, e ogni volta che muoveva il culo, puf, sta borsa andava avanti e mangiava patatine. Allora il mangiare patatine, vabbè, niente. Se non che quando ha finito le patatine, lui era davanti a me, era quasi davanti alla farmacia, mi era davanti alla cop, no, alla scrittura rurale, questo che cosa poteva fare? Ha preso il sacchetto vuoto di patatine e la buttava Andrea, io che venivo da dietro, mi sono permesso da dire, i sacchetti si buttano nei posti giusti e questo mi ha guardato e mi ha detto, crepa! Questa è la moda del Slazzarà. Ho concluso.